Ciao ragazzi, allora non so se avete visto che ho iniziato a pubblicizzare il corso base sul cane da guardia che faremo qui da me sabato 20 ottobre e lo stage per gli ispettori cinofili federali che faremo domenica 21 ottobre. Per cosa riguarda lo stage ne parleremo ancora sui vari argomenti, insomma su qual è l'efficacia dei cani da guardia eccetera eccetera però adesso il mio obiettivo che sono qui con il grande squalo che vi inquadro è quello di farvi capire un po' meglio cosa noi facciamo a questo corso base sul cane da guardia. Tanti mi dicono ma al corso base sul cane da guardia posso portare anche il mio cane? Questo me lo dite già perché voi non sapete cos'è un cane da guardia, come potreste portare un vostro vero cane da guardia e farlo convivere con altri cani. E poi cosa dovremmo insegnare? Io cosa dovrei insegnare al cane da guardia? E' a voi che devo insegnare tante cose perché il primo punto che voi imparate al cane da guardia è cos'è un cane da guardia ma prima ancora cos'è un cane? Perché oggi nonostante ci siano questi social dove tutti commentano, dove in teoria se si va su internet e si mette la parola cane, escano miliardi di persone che trattino questo argomento. Il cane è una cosa così semplice così facile da crescere e da gestire ma diventata così complessa perché l'hanno voluta far diventare così complessa per questioni commerciali che la maggior parte delle persone non sa più da che parte incominciare né con l'alimentazione né tantomeno su come riuscire a crescere il cucciolo, come prepararsi quando il cucciolo deve arrivare a casa insomma tutte quelle cose che fanno diventare complicata tipo una strada irta in montagna quello che invece è un'autostrada in pianura che con un minimo di informazione voi non avrete mai un minimo problema con i cani e ve lo dice uno che per cani ha sempre allevato cani di fortissimo carattere cani considerati difficili da molti addirittura potenzialmente pericolosi e con questo sistema che io ho sempre adottato che vi voglio trasferire in questo corso base sul cane da guardia io vi posso semplificare assolutamente molto il vostro rapporto con questo animale quindi una delle prime cose che si impara il corso è innanzitutto cos'è un cane da guardia poi quali sono quelle razze nelle quali voi potete trovare più facilmente il guardiano che cercate poi guardate il cane da guardia non è un semplice cane che abbaia quando viene un estraneo non è un semplice cane che è aggressivo quando viene minacciato ma è un cane che deve fare, fa un lavoro sul territorio che è utile a farvi vivere tranquillo il cane da guardia vero non ha niente a che vedere col cane da difesa non ha nulla a che vedere col cane da presa non ha nulla a che vedere con tutti quei cani che le persone hanno e tengono e immaginano che questi potranno poi essere utili proteggerli nel momento del bisogno però a parte questo proprio ad esempio imparare bene quali sono le regole per poter impostare una convivenza con il vostro cane che se la guardia deve avere un forte carattere e questa convivenza deve essere di successo voi non potete arrivare al punto di prendere un cane trascurare tutta una serie di cose che il cane vuole da voi non soddisfargliele e di conseguenza trovarvi poi dei pasticci e anche squalo è d'accordo con quello che io sto dicendo ecco, adesso forse si vuole mangiare il telefono non ti sei ancora neanche lavato la faccia stamattina siamo andati in onda e praticamente non ci siamo neanche preparati quindi a questo corso base sul cane da guardia e si chiama corso base non vorrei che ingannasse non è il corso base fatto per i principianti questo corso base servirebbe anche tanto i professionisti perché è pieno di professionisti che quando trattano l'argomento del cane da guardia non ne sanno un fico secco però elargiscono consigli a tutti pensando che il cane da guardia sia un cane come tutti gli altri allora, un conto è la razza dei cani da guardia che molti invece di fare la guardia dormono tutto il giorno ma un conto è quando un cane anche senza essere di razza quindi un meticcio o magari una di quelle razze che potenzialmente è un cane da compagnia ma si dimostra da cane da guardia si atteggia da cane da guardia cioè dimostra di avere questo istinto di non voler tollerare nessuno se non i proprietari ammesso che i proprietari abbiano capito cosa lui vuole lo sappiano gestire bisogna per poter convivere con questo animale conoscere tutta una serie di regole e non solo bisogna creargli delle condizioni ambientali dove lui possa esercitare bene questo lavoro sentirsi a proprio agio poter, come dire, continuare un rapporto con noi senza intralci di conseguenza un po' le condizioni ambientali un po' l'alimentazione un po' determinate regole che vanno applicate assolutissimamente da quando il cucciolo entra un po' il nostro comportamento che noi dobbiamo sempre tenere con cane da guardia e far tenere i nostri bambini capire bene qual è la natura cos'è che lui vuole e cos'è che lui non vuole molte cose che noi crediamo che gli facciano piacere e ciò che invece detesta un cane da guardia ed è il motivo per il quale a un certo punto lui inizia a fare delle brutte reazioni e noi poi lo facciamo fuori pensando che non era affidabile ma quelli che non sono mai stati affidabili per il cane siamo sempre stati noi di conseguenza tutte queste cose messe insieme aggiunte ancora proprio di come ci si deve organizzare quando il cane viene a casa cos'è che ci serve c'è un sacco di attrezzatura completamente inutile che tutti acquistano e non riescono ad avere quelle tre o quattro cose senza le quali non si può convivere in modo felice in modo costruttivo con un cane da guardia il famoso cane da guardia che tutti vorrebbero perché tutti vorrebbero avere un cane che potesse proteggerli quando qualcuno di malintenzionato vuole entrare nella nostra proprietà ma che la maggior parte continua a aver paura per lui, per i bambini e per tutti gli altri familiari perché nessuno riesce a capire che l'animale non è mai imprevedibile ma siamo noi che dovevamo prevedere queste sue reazioni e dovevamo già prendere i provvedimenti prima invece di farci questa solita cultura cinofila leggendo un po' qualche pagina di un libro andando un po' sui social discutendo con altri che ne sanno meno di noi e quindi facendoci un'idea di questo animale che le più delle volte non corrisponde minimamente alla realtà allora prima di lasciarvi vi invito ancora se volete nel frattempo che venite al corso approfondire un po' la vostra cultura vi ho risposto a 52 domande e vi ho fatto un opuscolo che vi posso mandare è un pdf quindi non mandatemi il vostro indirizzo figuriamoci se io gratuitamente mi metterei lì a preparare l'espedizione a chiamare il corriere a dare la posta insomma cercate di avere un po' di buon senso mi dovete mandare un'email che io ve lo giro immediatamente in un pdf e lì iniziate a migliorare un po' la vostra cultura e poi anche se abitate lontano anche se c'è da fare qualche centinaia di colometri fateli perché poi quando voi avete il cane che non funziona o vi siete presi un bello spavento oltre alla demoralizzazione i problemi che avete in famiglia e tutti i problemi che potete avere a sistemare un cane che voi non volete più ecco rimpiangete di non aver fatto queste centinaia di chilometri perché tutte le persone tutte dico il 100% delle persone che io seguo e che mi hanno ascoltato qualsiasi cane che abbiano adottato nella loro vita crescero, allevarlo e gestirlo fino agli ultimi momenti è stato veramente una passeggiata ok, vi ringrazio molto di avermi ascoltato fino a questo punto quindi organizzatevi per questo corso adesso ve l'ho detto praticamente un mese prima quindi rimandate i vostri appuntamenti e vi aspetto tutti sabato per il corso base e poi chi vorrà approfondire alcune cose proprio sull'efficacia del cane da guardia potrà fare questo corso per ispettori cinofili federali che durerà anche la domenica due giorni pieni di cinofilia ma specialmente di cinofilia vera che è quella che vi serve per andare avanti senza incontrare mai nessun problema vi auguro buona giornata e a presto ciao ragazzi grazie a tutti